Il destino volle che lo mettessero nella stanza di un certo folagra, la pecora nera, anzi, la pecora rossa della ditta. Questi era un giovane intellettuale di estrema sinistra che tutti, fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni. Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica, la controrivoluzione, non sono giustato chiaro. Non so se vi spiego, porco, giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una congestione che sia proliferante in senso solo. Oh, nei comitati di quartiere con informazioni alternative precise sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no? Cosa fai? Ti ho portato la vitella. No, 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 la mangio dopo, lascia. Ma, eh... La lasciami il latte. La contolettina fredda? Prendo solo il latte adesso, vai a dormire, eh? Io devo studiare qui. Buonanotte. Dopo tre mesi di letture maledette, fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma loro mi hanno sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per vent'anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni! Ti prego, Ugo. Altro che se è servile, è riconoscente. Finché una mattina si presentò in ufficio coi capelli a mezzo collo e un misterioso pacchetto. Mediacchi! Ce l'avete tutti con me, ce l'avete! Ma che cosa avevo fatto io? Vent'anni della mia vita! Ora vi faccio vedere io, vi faccio! Venite giù, venite! È stato lei, vero, fantozzi? Venga! Era il megadirettore galattico in persona, colui che nessun impiegato al mondo era mai riuscito soltanto a vedere. Correva anzi voce che non esistesse neppure, che non fosse un uomo, ma solo un'entità astratta. Ma, scusi, questa è l'osastanza? Certo. Vabbè, ma le cento piante di ficus e le poltrone di pelle umana e il grande aquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati. Voce, caro fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Prego, si accomodi. Sì, sì, ma dove, dove andiamo? Si siede, qui. Ma qui, al suo posto? Certo. Un sorso d'acqua o un tozzo di pane? Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei? Ma certo. Che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza. Ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo i schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Maldita, come? Io come lei sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei e come il nostro caro dipendente è folagra. Ma, mi scusi, Sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista. Beh, proprio comunista? No, vede, io sono un medio progressista. Ah. Ma in merito a tutte queste rivendicazioni, e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, maestà? Ecco, bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero la prego, si accomodi. E qui, posso? Cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni fino a che non saremo tutti d'accordo. Ma, mi scusi, Santita, ma in questo modo ci vorranno almeno mille anni. Posso aspettare. Io. Grazie. Così allora le mancherebbe solo la poltrona di pelle umana. bella e umana. Esatto. I ragioni Erfonelli della contabilità lo riconosco. Che bello. Però l'acquario dei pendenti non ce l'ha mica, eh? esiste. L'acquario. Che meraviglia. Che spettacolo. Oh, ecco la sirena Pessi. E il meccanico Molly. E l'usciere tritti sorteggiato. E ragionire Bolzoni, guarda. vedo santità che le manca ladriglia. Posso avere l'onore io. Va bene. Glielo concedo. Ah, grazie. Ma mi raccomando, sia sempre rispettoso e fedele. Sì, onnipotente. Sì, nonnipotente. nonnipotente. Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. 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 Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. Sì, nonnipotente. nonnipotente. Sì, Grazie a tutti.